Buongiorno, grazie per essere qui, per un appuntamento tradizionale in Gineva con la Ferrari. Il nuovo modello ha molte innovazioni, inizia con il nuovo turbo 8-cylinder. Dopo 25 anni, questo è il nuovo turbo del Ferrari, dopo il turbo F40. L'innovazione non è solo un nuovo motore, il nuovo turbo 1-cylinder, ma anche molto lavoro, principalmente in la sospensione, in le damper, in la formula 1-track control, che è uno dei elementi principali di questo caro, per migliorare la sicurezza, per migliorare le performance, e per migliorare il comfort del caro. Il design, come puoi vedere, è diventato cambiato, ma abbiamo mantenuto la stessa size del caro, e anche il retratabile hardtop, che è stato davvero apprezzato dai nostri clienti. Puoi aprire, o puoi cercare il caro in 14 secondi. Puoi cercare il hardtop in 14 secondi. Il design è un risultato di una collaborazione tra il Ferrari Design Center e Pininfarine. Ma lascia un po' di parole sul nuovo motore. Il nuovo motore ha fatto un lavoro lungo con tutte le nostre equipi e i nostri migliori servizi. È un motore completamente nuovo motore, che usa il turbo per ridurre le emissioni, ma anche possiamo dare una risposta immediata al motore. Questo è uno dei elementi principali, per creare un turbo con una risposta molto rapida. Ci siamo capiti praticamente di cancellare il turbo lungo. Abbiamo un'attività migliorare costante, che aumenta con l'attività, grazie a la nostra software propria. Questo è un'attività migliorare costante. Ci siamo capiti di fare i nostri amici. Abbiamo creato e aumentato la nostra software. Con una patente che credo sia molto novato. Ma anche abbiamo potuto fare i suoni come un'attività di Ferrari che devono scegliere. E anche credo che sia interessante di enfatizzare la performance della carica, anche in termini di zero a 100, con 3.6. Significa che questo è una reale Ferrari. Questo è il T. T. California T significa turbo. E c'è molta ruota nel boot, guardando l'interior, per aumentare la versatilità di questa carica. e la ruota nel boot è grande, anche con la ruota sotto. E questo è un'attività di attenzione all'interior, con particolare attenzione a tutti i dettagli, e a un materiale molto innovativo dell'interior. Abbiamo chiamato questo interior 2 plus 1, perché potete avere scegliere in parte, ma non davvero 2 scegliere, ma 2 plus 1. oggi è anche un giorno molto importante, perché sono orgoglioso di annunciare una collaborazione molto importante tra l'Apple e la Ferrari. Questi due brand forti hanno oggi piaciuto annunciare l'integrazione dell'Apple CarPlay in FF. Siamo i primi del mondo a commercializzare per i nostri clienti questo sistema molto innovativo. Sistema. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.